Buongiorno, sono Gabriella Bortolussi dell'ambito sociale di Pratturlone e insieme alle mie colleghe Fabiola Cristante e Nadia Zulian oggi vi vorremmo parlare un po' della tutela minori che è il servizio in cui noi operiamo. Nasce nel 2004 dal desiderio di alcuni operatori di provare a dedicare del tempo in modo specialistico a fronte del problema dei minori di cui ci occupiamo e lavoriamo in modo integrato tra psicologo e due assistenti sociali insieme a un'equip di operatori anche dell'azienda sanitaria quindi del consultorio della neuropsichiatria infantile che ogni 15 giorni si incontrano per prendere in considerazione situazioni problematiche affrontare, leggere il bisogno e provare a trovare delle strategie per affrontare il problema. Vorrei passare un attimo la parola alla mia collega Cristante che procederà nella presentazione del servizio. Grazie, buongiorno, sono Fabiola Cristante, sono un'assistente sociale della tutela minori. Di cosa ci occupiamo nel concreto? Che cosa facciamo? Allora la tutela minori si occupa di famiglie multiproblematiche con minori. Fondamentalmente il nostro lavoro è quello di prendere in carico queste famiglie nel momento in cui riceviamo un mandato da parte generalmente del Tribunale per i minorenni di Trieste. Cosa significa prendere in carico famiglie e dare una risposta a questo mandato? Significa conoscere le famiglie, quindi attraverso dei colloqui, conoscere le persone, conoscere la loro situazione, cercare di comprenderne le fragilità ma anche e soprattutto le risorse in maniera da cercare di dare delle risposte attraverso l'attivazione delle risorse. Poi cosa facciamo ancora? Consulenza. Facciamo consulenza ai servizi territoriali, consulenza alle scuole, consulenza agli educatori che utilizziamo all'interno di progetti educativi domiciliari. Poi affianchiamo le colleghe del territorio in situazioni particolarmente problematiche anche laddove non c'è il mandato del Tribunale oppure le affianchiamo prima dell'arrivo del mandato del Tribunale in situazioni ancora più complesse, eventualmente di sospetti abusi o sospetti maltrattamenti. Poi abbiamo dei progetti di cui tra l'altro vi parleremo nelle prossime puntate quindi progetti, il progetto Affido, il progetto dello spazio neutro protetto, progetto Feuerstein e progetto relazioni al femminile e al maschile. L'obiettivo del nostro servizio è quello di favorire il benessere psicofisico dei minori. Lo facciamo favorendo la consapevolezza delle famiglie relativamente ai problemi che ci possono essere e individuando e promuovendo le risorse che sono insite nella famiglia cercando poi anche di mitigare quelle che possono essere le fragilità presenti. Quello che noi utilizziamo come strumento proprio cardine è la relazione con le famiglie quindi attraverso colloqui, visite domiciliari, contatti poi con le scuole, ci rapportiamo poi anche con gli altri servizi a cui possono accedere le famiglie. In questo modo possiamo raccogliere più informazioni possibile e lavorare coordinandoci con diverse figure professionali. Un'idea abbastanza diffusa è che il nostro servizio porta via i bambini. Allora bisogna precisare che ci sono alcune situazioni che per delicatezza, complessità e difficoltà viene effettuato l'allontanamento del minore. Questo allontanamento può essere temporaneo oppure definitivo a seconda poi delle situazioni. Chiaramente ciò viene fatto in quelle situazioni in cui ci si rende conto che questo è assolutamente necessario e in ogni caso sono provvedimenti predisposti dal Tribunale dei Minori e vengono predisposti quando tutti gli interventi precedentemente messi in atto non sono stati efficaci e non hanno portato a nessun risultato.